Su richiesta di Paolo Frattura si è riunito il tavolo del centro-sinistra con l'obiettivo di rilanciare la coalizione in vista delle prossime elezioni regionali. Programmi, alleanze e leadership sono stati i temi affrontati nel corso di oltre tre ore di discussione. Intorno al tavolo, con Frattura, c'erano cinque segretari regionali. Danilo Leva, PD, Pier Polo Nagni, Italia dei Valori, Candido Paglione, Selle, Marcello Miniscalco, PSI e Nicola Macoretta, comunisti italiani. Mancavano però Massimo Romano, costruire democrazia, e Italo di sabato, rifondazione comunista. Alla fine è stato deciso di aggiornare la riunione a dopodomani per allargare il confronto a Giuseppe Astore, partecipazione democratica, e all'API di Erminia Gatti. Su proposta di Danilo Leva è stato comunque deciso all'unanimità di ripartire dalla leadership di Paolo Frattura, tranne che non venga fuori almeno un'altra candidatura di rilievo. In tal caso potrebbero rifarsi le primarie, ma i partiti sosterrebbero Paolo Frattura. Più contrastata è invece la proposta rilanciata da Danilo Leva sull'alleanza con i moderati e in particolare con l'Udc. La reazione è stata tutto sommato tiepida, ma sono stati molti ad esprimere forti dubbi sulla fattibilità dell'alleanza con chi ancora oggi sostiene Michele Iorio. Sullo sfondo resta però la posizione di ostilità di Massimo Romano e di Italo di sabato contro la candidatura di Paolo Frattura. E, nonostante i tentativi del PD, la scissione appare ormai inevitabile. Resta anche da capire la posizione del senatore Giuseppe Astore che da tempo ha espresso la non condivisione della leadership di Frattura. Nonostante tutto però, l'ex presidente della Camera di Commercio è uscito rafforzato dal vertice del centro-sinistra.